T-rex cos'aveva che lanciassero nella... ...nelle antichità Boh, non lo so... Mettono... Mettono la propria merda nelle mani e creano una bella palla di merda, non so Sto morendo Sto morendo, cazzo Aiutateli Venti qua dove sono io, tanto non mi sta cagando E' arrivato un... Era con me, cane Aiuto! Aiutateli Mi vuole schiacciare? Ci sono le vite, cazzo Come ci sono le vite Dice Free Lives Remaining No, dice Free Lives Remaining No, mi ha preso sto cazzo di No, mi ha preso sto cazzo di Madonna Ce l'hai fatta? Si Com'è sta configurazione? Aspetta Ah, questa è tutta roba senza schermo Ma di soldi mi bastano per lo schermo Ma quello basso è anche 100€ Ho trovato un po' di pc a 500€ però solo i pezzi No